Con l'assemblea odierne per la nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali termina il commissariamento per la banca Tercas e Caripe, un passo essenziale che segna formalmente il subentro a pieno titolo del nuovo proprietario, la Banca Popolare di Bari, e l'uscita di scena del commissario Riccardo Sora. L'istituto di credito del capoluogo pugliese detiene il 100% delle azioni Tercas e la quasi totalità di capitale Caripe, dove sono rimaste quote esigue alla Fondazione Pescara Abruzzo e la Finsud, che hanno lo 0,01% ciascuna, ma che potranno partecipare all'assemblea, mentre per quanto riguarda Tercas sarà tutto un affare interno alla BPB. I nomi dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione del presidente e del collegio dei sindaci saranno presumibilmente resi noti oggi, mentre per quanto riguarda il nuovo direttore generale della Tercas, ma anche di Caripe, circolano da tempo in descrizione sul nome di Nicola Loperfido, già componente del consiglio di amministrazione della Popolare di Bari Corporate Finance, società e gruppo bancario pugliese, che si occupa di assistenza a finanziare le imprese. Nel nuovo consiglio di amministrazione Tercas non dovrebbero trovare posto personaggi abruzzesi, ma qualche nome locale probabilmente verrà inserito nel collegio sindacale della Tercas. Con la giornata di oggi per Tercas e Caripe si apre una nuova era, che si spera possa segnare un rilancio positivo a una delle banche più importanti del nostro territorio. Grazie.